Conclusa con grande successo la diciottesima edizione della Sagra della Goletta a Ponterio di Trecastelli. La manifestazione promossa dal Circolo Arci a Cervi con il patrocino dell'omonimo comune ha visto nelle tre giornate dedicate un programma sforzoso di eventi collaterali a partire dal torneo di Burraco alle gare di boccetta interprovinciale a 32 coppie fino alla giornata conclusiva di domenica 9 settembre nel quale sono state organizzate un raduno di auto, moto, vespe ed epoca promosso dal club motori d'epoca di Senigallia e il Vespa Club di Fano e di Marzocca. Poi l'iniziativa è proseguita con la gara di Ruzzo, la primo memoria Elso Donati Nazareno Angeloni nel quale ha visto protagoniste due squadre con le sue rispettive categorie. Infine nel campetto sportivo si è svolta la prima esposizione canina nazionale città di Trecastelli dove hanno partecipato diverse razze per contendersi il podio. Non sono mancate in serata musica, ballo e divertimento e la succulenta protagonista della sagra, la goletta. Voglio ringraziare prima di tutto tutto il personale, i ragazzi, i volontari che da dieci giorni lavorano in cucina, nel montaggio, nei giochi, al centro sociale, tutto il personale. Io lo voglio ringraziare in modo particolare perché veramente se non ci fossero loro la festa non si farebbe. Poi voglio ringraziare tutti quegli sponsor che hanno dato anche un piccolo contributo che credono in questa manifestazione.